11.000 firme raccolte in un mese tra agosto e settembre in Friuli Venezia Giulia per chiedere il ripristino immediato dell'erogazione di diagnosi e cura e l'avvio di centri per il trattamento della sclerosi multipla. Per l'associazione CCSVI, acronimo inglese che sta per insufficienza venosa cronica cerebro spinale, si tratta di un risultato molto importante. Presidente nazionale dell'associazione Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti. Presentata nella stessa giornata, prima a Trieste, nella sede della regione con la consegna delle firme al Presidente del Consiglio regionale France e poi alla stampa in provincia a Gorizia, la petizione per il ripristino del metodo Zamboni, ovvero l'ingegnosa scoperta di un medico italiano per guarire o perlomeno migliorare e di molto dalla sclerosi multipla. 11.000 firme raccolte in poco più di un mese solo in Friuli Venezia Giulia. In questa petizione si chiede che questa nuova patologia venosa che si chiama CCSVI e che è fortemente correlata alla sclerosi multipla, sia per questa patologia sia messa la possibilità di avere diagnosi e trattamento all'interno del servizio sanitario regionale della nostra regione. Ora come ora i malati di sclerosi multipla sono trattati solo farmacologicamente. Quali sono i costi di una terapia farmacologica? Si stima che i costi sul sistema sanitario siano tra i 20.000 e i 70.000 euro annui per paziente, a seconda della gravità del paziente. Stimare ora su due piedi l'intervento non è semplicissimo, diciamo che l'intervento può costare il sistema sanitario circa dai 1.000 ai 2.000 euro. Mi pare evidente il risparmio se viene fatto nelle strutture pubbliche. Sì, certo, il risparmio sarebbe evidente, quindi c'è anche una questione economica da mettere in piedi. C'è qualche dubbio del perché di questo blocco? Noi sospettiamo che ci siano motivazioni forti di carattere economico, cioè i malati stanno pagando lo scotto di poteri economici forti che non hanno nessun interesse a incentivare questo tipo di sperimentazione, questo tipo di trattamento.